Il Venture Group è il protagonista di questa intervista o la protagonista, essendo una società ovviamente una spa di questa intervista e con noi lo ringrazio molto l'amministratore delegato, il dottor Luigi Capello Due parole proprio su El Venture Group che ormai conosciamo bene è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital Cosa fa El Venture Group? Investe in aziende elevato potenziale di crescita con prospettive internazionali nel settore delle tecnologie digitali ed è attualmente leader proprio in alcuni segmenti di cui poi ci parlerà ovviamente il dottor Capello Tore Capello allora intanto un punto sul 2020 perché che poi lei ha dichiarato il 2020 ha dimostrato la correttezza del modello di business della società quindi siete soddisfatti degli andamenti? Beh direi siamo soddisfatti nel senso che è stato, noi consideriamo il 2020 come un anno di svolta per il Venture Capital l'anno 2020 come tutti sappiano è nato con delle grosse problematiche insomma con una pandemia globale l'attività economica è ovviamente ne ha resentito per cui nei primi mesi del 2020 tutti noi, qualsiasi tipo di attività ha subito delle brusche frenate però poi che cos'è successo? Ognuno di noi ha cominciato ad utilizzare o quantomeno è stato forzato ad utilizzare delle tecnologie digitali per cui pensiamo a queste video interviste, alle conference call ai viaggi di affari che eravamo costretti a fare fino appunto ai primi mesi del 2020 tutto questo unito poi anche ad altre modifiche dei consumi pensiamo la spesa online, pensiamo le cene non più presse il ristorante ma ti viene consegnata a casa ecco, pensiamo tutto questo mondo di attività da una parte dall'altra le corporate, anche le corporate nel senso che hanno visto un cambiamento repentino dei consumi ed ovviamente si sono adeguate per cui hanno strutturato dei sistemi online più efficaci ed altri modelli di business le corporate hanno capito che avevano bisogno di innovazione per cui si sono buttate diciamo con la forza che può fare una corporate anche con la lentezza certe volte ma con quella forza sono buttate in una digitalizzazione forzata ecco, per cui questi due elementi il consumatore e la corporate dall'altra parte unita a importanti capitali che stanno arrivando parlo del mondo CDP per cui CDP non è solo il capitale che invece è il CDP che sono numerose iniziative molto molto interessanti molto valide ma è anche l'effetto che fa CDP ossia, come sappiamo, diciamo lo fa CDP, lo faccio anch'io ecco, quell'effetto di snowball che finalmente direi che è arrivato era anni che attendevamo come dire il giro della chiave, diciamo così e questo possiamo dire che sarà il 2020 per cui abbiamo avuto un primo semestre direi di settore in senso lato anche per l'eventure di conseguenza difficile abbiamo avuto un secondo semestre 2020 invece molto molto interessante siamo usciti in un ultimo quadrimestre con numerosi operazioni con numerosi round infatti ricordo anche che aveva anche avuto una cessione nel primo semestre ma era possiamo dire una coda lunga dell'anno precedente tra l'altro credo che avete avuto un exit con oltre quattro volte il ritorno sull'investimento si riferisce a quella, a quella exit esatto, abbiamo venduto Libratec proprio al gruppo Zucchetti il gruppo Zucchetti mi preme sempre ricordarlo è a sede a Lodi ricordiamoci la situazione di Lodi a febbraio del 2020 l'operazione sarebbe probabilmente chiusa tra febbraio e marzo è stata tardata qualche mese abbiamo chiuso ad aprire però direi con ampia soddisfazione sia per l'acquirente che per noi venditori questo per dire che come dicevo prima nel senso che la corporate sia adeguata in quel caso era lo smart working totale all'improvviso eccetera sia adeguata e il business è andato avanti in questo caso abbiamo ceduto Libratec al gruppo Zucchetti abbiamo realizzato un buon moltiplicatore di oltre quattro volte ecco diciamo che è un anno che ci vede soddisfatti anche come i numeri insomma abbiamo il fatturato che conferma l'anno precedente abbiamo una rivalutazione molto importante secondo gli IAP insomma secondo la metodologia che tiene conto della rivalutazione della start up abbiamo avuto circa 3 milioni e mezzo di rivalutazioni di conseguenza l'EBIDA se possiamo chiamarlo l'EBIDA rettificato di queste rivalutazioni è un risultato positivo estremamente interessante per cui è così l'ultima riga l'ultimo elettore rettificato è estremamente interessante insomma è partito in un certo senso male l'anno diciamo che c'è stato un colpo di coda nel secondo semestre abbiamo recuperato e siamo soddisfatti e il 2021 si sta muovendo con la stessa traiettoria è qui perché ho visto sul sole 24 ore si afferma che l'incremento nei primi due mesi del 2021 l'incremento dei capitali investiti nel venture capital sembra essere stato superiore del 50% rispetto al precedente anno che poi diciamo i primi due mesi si comincia a sentire febbraio colpo della pandemia quindi c'è proprio una spinta molto forte lei ce l'ha fatto chiaro penso si percepisce chiaramente insomma si si diciamo che si percepisce chiaramente lo vediamo tutti i giorni vediamo l'interesse di cdp ma quello che è molto importante non è un soggetto solo che si sta muovendo il mercato io ricordo che in Francia ormai il venture capital gli investimenti in start up sono circa 6 miliardi all'anno c'è anche lì il supporto di BPI France però è un supporto ecco non è che è solo BPI e poi c'è tutto il sistema economico che si muove il sistema finanziario gli investitori privati ecco quello che sta cominciando ad avvenire anche in Italia adesso per cui direi che il 2021 ne vedremo abbiamo già visto qualche grosso round pochi giorni fa ma ne vedremo delle belle e ci auguriamo anche nel nostro portafoglio insomma senta guardando proprio al 2021 voi avete già definito i principali obiettivi avete dato anche al mercato delle guidance quali sono gli elementi che più evidenti di questi obiettivi che avete fissato che avete indicato e avete indicato appunto come guidance al mercato beh direi da un punto di vista il fatturato nostro che è l'attività di servizi che facciamo prevediamo una crescita molto molto importante di circa il 40% contiamo di farla siamo in linea su questi dati il secondo punto sono le rivalutazioni delle start up anche qui secondo me abbiamo delle importanti operazioni in corso è chiaro che mentre il fatturato è ripetitivo come dire dico giorno per giorno tra virgolette certo le rivalutazioni sono operazioni la numerazione insomma l'effetto si verifica quando si verifica un certo rato però abbiamo delle operazioni conferma che nei primi due mesi avete fatto avete già concluso nuove operazioni di investimento abbiamo già concluso una serie di operazioni di investimento se non sbaglio le grosse stanno arrivando per cui aspettiamo un attimino come dire che maturino dato che i capitali che cominciano ad arrivare nelle start up sono molto più grossi di quelli precedenti anche le tempistiche delle operazioni a questo punto sono un pochino più come dire lunghe chiamiamole tra virgolette ecco perché questi due elementi ci fanno ritenere un EBITDA positivo un risultato netto estremamente positivo per quanto riguarda il mondo delle exit sicuramente c'è stato un rallentamento nel 2020 nella seconda parte insomma c'è stato sicuramente nella prima parte c'è stato il blocco una ripresa un rallentamento comunque nella seconda parte e una ripresa le operazioni di exit ne abbiamo in corso e dobbiamo concludere per cui siamo anche lì ottimisti di poter fare buoni numeri senta il Venture Cup è leader in due segmenti nel micro-seed financing che è appunto investimento di risorse più limitate a favore di start-up selezionate ed inserite nel programma di accelerazione che è gestito da Lewis Labs la fabbrica delle start-up e poi il secondo è il seed financing invece che investimenti in start-up che hanno già una fase di crescita più avanzata e quindi che necessitano di maggiori risorse finanziarie il quadro questo anno di svolta questa spinta che poi sta arrivando già come dicevamo all'inizio del 2021 è più spostata sulle micro-seed o più sul seed financing o su tutte e due? Ma allora guardi un po' su tutti e due nel senso che abbiamo sulla parte diciamo micro per cui il segmento di accelerazione abbiamo rafforzato il team deal flow per cui abbiamo un deal flow veramente molto interessante di start-up tutto questo interesse di denaro tra virgolette di consumatori fa sicuramente aumentare anche la qualità del deal flow per cui direi stiamo aumentando il numero di start-up in ingresso di conseguenza i soldini in più sta partendo a brevissimo un acceleratore verticale di cui verrà poi fatto un comunicato stabba nei prossimi giorni anche quello ci darà una forza ulteriore sarà un ulteriore deal flow per noi per cui siamo da questo punto di vista molto soddisfatti per quanto riguarda invece il capitale propriamente detto poi per investimenti normalmente nelle start-up diciamo che sono entrate nei nostri programmi di accelerazione i due di Luis & Labs e quell'altro verticale che stiamo lanciando tutto questo diciamo questo capitale sicuramente è come dire disponibile contiamo di quantomeno di fare gli stessi investimenti dell'anno dell'anno passato per cui direi che in entrambi i settori andiamo molto forte e direi anche nell'area dell'open innovation che sono tutti i settori dei servizi verso le corporate poiché c'è sempre di più interessi delle corporate all'innovazione anche in questo è un settore che sta maturando molto bene sta crescendo e siamo molto soddisfatti sai dottor Capello è un po' la domanda delle cento pistole nel senso che dipende appunto da tantissime variabili ma quali sono le caratteristiche quando voi investite su una startup che andate essenzialmente a vedere per cogliere le sue potenzialità effettive e quindi decidere di investire oppure di non investire allora noi innanzitutto come investiamo nel mondo digitale investiamo allora mondo digitale dove c'è un team che ha un progetto ok questi sono diciamo gli elementi gli elementi di base noi siamo come abbiamo detto early stage nelle fasi early la parola iniziale molto spesso le società non sono costituite in società delle volte sono invece costituite in società allora si presentano abbiamo un flow molto importante quali sono le metodologie bisogna avere innanzitutto la chiave di volta è avere numerosissime operazioni noi dobbiamo avere tanti dossier da guardare dove fare selezione molto forte noi dobbiamo essere molto bravi a fare questa selezione cos'è che cerchiamo noi cerchiamo imprenditori gente che abbia il fuoco dentro quello interiore perché è chiaro che quando ci viene presentato un progetto che magari frattura fra sei mesi o frattura fra un anno noi non chiediamo il business plan per cui sarebbe anche inutile perché magari è un business nuovo per cui è difficile fare un business plan su qualcosa che non esiste noi cerchiamo di capire se questo team può essere in grado di realizzare il progetto che vuole portare avanti questi direi che sono gli elementi chiave per noi per cui ripeto avere un flow diciamo molto molto importante noi raccogliamo 500 domande ogni sei mesi e da 500 ne portiamo a casa nell'ultimo batch sei questo prossimo magari saranno otto nove ecco l'obiettivo sono 15 all'anno tanto per dire su circa mille circa mille ne investiamo ne accettiamo 15 poi dopodiché una volta che ne accettiamo facciamo dei numeri semplici in un semestre accettiamo facciamo otto non è che tutte otto poi arrivano alla fine del programma con successo normalmente l'ottanta per cento arriva alla fine del programma con successo quello che dobbiamo fare noi è proprio una scrematura piramidale per cui sei verranno presentate agli investitori quali sono quelle che presentano agli investitori quelle dove anche noi investiamo e prima di tutto che hanno fatto risultati nel periodo di accelerazione che hanno detto sono stati bravi hanno fatto gol bene siamo disponibili a investire e le presentiamo agli investitori fatto questo normalmente si raccoglie un importo 500 mila euro questi soldi servono per rafforzare il team per fare marketing anche lì c'è un'ulteriore selezione per cui il venture capital questo early stage è molto interessante ma ci vogliono delle condizioni bisogna avere un grande deal flow cercare di eliminare tra virgolette in senso buono togliere comunque quelle meno performanti venderle prima oppure se non performano proprio chiuderle in modo tale da concentrarsi sul 10% 20% di start up per cui sul 1-2 all'anno e al semestre che sono quelle che saranno campioni noi ci dobbiamo concentrare sui campioni dove le exit ci auguriamo che siano x volte ci auguriamo decine di volte il capitale questo è il gioco raccontato e poi scusate che noi all'inizio compriamo delle opzioni perché quando noi la start up entra in accelerazione noi mettiamo dei soldi ma è una sorta di opzione mettiamo più soldi poi nelle fasi successive questa è un po' la rappresentazione grazie mille dottor Capello è stato davvero chiaro ci ha portato in un mondo che peraltro è in grande espazione di grande interesse spiegandoci in tutti i dettagli sia quello che riguarda il venture group sia per quello più in generale proprio di tutto il settore del venture capital posso chiudere con un augurio prego un solo augurio che è un'indicazione che il settore early stage del venture capital è l'asset class è statisticamente più redditizia tra le diverse asset class e l'investimento nelle fasi iniziali fatto con certe metodologie è quello più redditizio del venture capital qui se posso dire in generale investite nelle start up investite in venture capital possibilmente quello iniziale tutto qua grazie mille dottor Capello ricorda abbiamo parlato con il dottor Luigi Capello che è amministratore delegato del venture group che è una holding di partecipazione che è quotata sull'MTA di Borsa Italiana e che appunto abbiamo mai chiarissimo opera nel settore del venture capital grazie mille ancora dottor Capello grazie grazie a voi grazie a voi